gentili telespettatori buona giornata siamo a non è l'arena e massimo giletti ha un mancamento dice avvisate i vertici non riesco ad andare avanti quindi giletti messo a dura prova nel corso della puntata sulla la 7 il 18 aprile nella sua trasmissione non è l'arena lui che è conduttore ma giornalista televisivo è infatti apparso in difficoltà dal punto di vista fisico soprattutto in alcuni determinati momenti della trasmissione non ha fatto all'inizio nessun accenno alle sue condizioni di salute ma col passare dei minuti apparso evidente che avesse qualche problema e si è mostrato affaticato con la voce rocca tanto che a un certo punto si è rivolto alle telecamere ammesso non so se riesco ad andare avanti quindi giovanni avvisa la rete per cortesia per fortuna di la 7 l'allarme poi è rientrato anche se i vertici sono subito stati avvisati nonostante la pressione generale e la preoccupazione dei suoi ospiti in studio che hanno percepito il malessere del conduttore giletti ha tirato dritto per la sua strada anche perché i temi trattati in puntata erano di assoluta importanza è infatti stata approfondita l'inchiesta sul mancato aggiornamento del piano pandemico italiano alla presenza di francesco zambon ex funzionario dell'oms e autore del dossier che poi fatto stato fatto stato ritirato e poi stato fatto ritirare beh ovviamente guardate che non so se siete mai stati in uno studio televisivo io ce l'ho stato tanto tanti anni fa con la scuola c'è una luce una luce forte molto forte c'è tensione c'è caldo perché queste luci fanno fanno caldo e la diretta insomma c'è una certa tensione poi se uno già non sta bene o è affaticato ancora ancora di più ma dopo un'ora circa di trasmissione giletti è stato costretto a ribadire le sue condizioni di salute non ottimali vediamo se riusciamo a continuare dopo la pubblicità se saremo in grado di andare avanti faremo vedere documenti incredibili avremmo anche un incontro con d'alema perché ci sono altre mail che a questo punto ha perso il filo del discorso ma dopo la pubblicità giletti è riuscito ad arrivare fino in fondo ma intanto parliamo anche di giovanna boda quella dirigente del miur giù dal balcone ci sarebbe una sorta di istigazione si è preso in un secondo fascicolo sulla vicenda di giovanna boda la dirigente del miur che ha tentato di togliersi la vita che ora è in condizioni abbastanza serie all'ospedale gemelli dopo aver scoperto di essere stata indagata dalla procura di roma per corruzione adesso rivela il giornale si sta cercando la talpa la persona o della stessa procura della guardia di finanza avrebbe fatto uscire il decreto di perquisizione firmato dal sostituto procuratore carlo villani nei confronti del funzionario ministeriale della sua assistente valentina franco 31 anni e del presunto corruttore lo psicoterapeuta federico bianchi di castelbianco 71 anni editore dell'agenzia dire e legale della società di comunicazione com punto e punto e sarebbe proprio il responsabile della fuga di notizie diretto al quotidiano la verità l'indiziato numero uno secondo il nuovo fascicolo aperto per istigazione a togliersi la vita dal pubblico ministero alberto galanti la boda infatti sconvolta per le accuse salita al secondo piano di un palazzetto a prati studio dell'ex ministro della giustizia nel governo monti il suo avvocato di fiducia paola severino e si è buttata giù dalla finestra non è ancora chiaro che cosa sia accaduto in quei momenti di panico anche perché scrive il giornale da un lato la procura è convinta di essere sulla pista giusta quella della corruzione in cambio di appalti diretti a bianchi ma dall'altra i conti non tornano a cominciare dalla somma che sarebbe stata intascata 680 mila euro circa ben superiori alle due delibere dirette a bianchi da 39.950 euro l'una insomma perché bianchi avrebbe dato alla boda tutti quei soldi intanto la condizione della donna che è sposata con il procuratore capo di chieti francesco testa restano abbastanza serie maria elena boschi che con la boda aveva lavorato durante il governo renzi si è sfogata sui social dice quello che è successo è assurdo ingiusto il quale realmente sono a fianco di giovanna e del suo dolore ci sarà tempo per capire ora possiamo solo pregare e sperare che riesca comunque ad uscirne da nella parte diciamo medica intanto si apprende passando a un altro a un altro tema che matteo salvini ha chiesto a all'ex magistrato che era stato intercettato di poter dichiarare partecipare al suo processo quello di open arms insomma matteo salvini viene rinviato a giudizio la decisione del gruppo di palermo dove il leader della lega accusato appunto di aver trattenuto 163 persone per alcuni giorni per poi redistribuirle quando ancora era ministro dell'interno nel primo governo presieduto da giuseppe conte la difesa della patria dice sacro dovere del cittadino articolo 52 della costituzione fa sapere salvini vado a processo per questo per aver difeso il mio paese ci vado a testa alta anche a nome vostro prima l'italia sempre il paradosso che giorni prima nel processo gregoretti per lo stesso reato contestato una dinamica dei fatti fotocopia il pubblico ministero ha chiesto al tribunale di catania il non luogo a procedere contro salvini ovviamente poi si attendono le ripercussioni politiche di questa slavina giudiziaria 5 stelle pd alleati di governo di salvini reggeranno l'urto della polemica intanto come vi dicevo palamara verrà chiamato a testimoniare a favore di salvini un po una cosa assurda no palamara che viene intercettato dove dice ad altri magistrati sì va bene salvini sta facendo un buon lavoro ma dobbiamo attaccarlo adesso viene chiamato da salvini in tribunale a cercare di scagionare salvini dicendo che praticamente è tutto un complotto contro di lui bene io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale iscrizione è gratuita siamo anche in facebook in instagram e nell'altro canale di youtube tele italia seconda rete ci sono poi anche gli abbonamenti al canale che cosa sono gli abbonamenti sono qualcosa in più con l'abbonamento da un euro potete vedere i video in anteprima ore prima che vengano pubblicati e poi con l'abbonamento invece da 2 euro da 2 euro e 99 cioè 3 euro al mese oltre a vedere i video in anteprima potete vedere anche dei video dedicati solo a chi ha questo abbonamento grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti